Lo sapevi che nel taoismo lo spirito femminile è veramente fondamentale ed è considerato quasi l'essenza del Tao? Me l'ha raccontato Karin Martin, una sacerdosa taoista che ho incontrato in India. Mi ha parlato anche dell'importanza dell'equilibrio tra yin e yang rispetto alla polarità femminile maschile. È stato veramente un incontro illuminante, lei è la seconda donna che ho intervistato per il mio libro Donne che esplorano il divino. Ti invito, se vuoi sapere di più su Donne di saggezza, a seguire Women Awakening Project. Oppure, se vuoi saperne di più sul libro e sulla campagna di raccolta fondi legata al progetto, puoi andare su www.terranuovalibri.it slash donne che esplorano il divino.